Roma. Problematiche sulla legge 194. Se ne è discusso in un incontro organizzato dalla CGL presso il palazzo della provincia. La legge sull'interruzione di gravidanza ha ancora difficoltà di applicazione. Su tutto il territorio nazionale il 69% dei medici è obiettore. La soluzione? Garantire alle donne il loro diritto di scegliere e migliorare le condizioni di lavoro di chi opera in questo campo. L'inviata Maria Fabbricatore ha raccolto le dichiarazioni di Elisabetta Cannitano, medico e presidente dell'Associazione Vite di Donna, e di Pina Adorno, presidente della consulta dei consultori di Roma. Questa legge, fortemente evoluta dal movimento delle donne e scritta nel 1978 sotto una grossa pressione delle donne, attraversa periodicamente dei momenti di difficoltà ad essere rispettata. La CGL in questa sede della provincia oggi riprende la tematica delle difficoltà di applicazione della legge, sia per quello che riguarda i primi 90 giorni che le interruzioni di gravidanza, oltre i 90 giorni che a loro volta hanno dei problemi sia nazionali che locali, raccogliendo una serie di istanze che il sindacato presenterà come proprie alla Regione per poter effettuare veramente fino in fondo la libertà di scelta delle donne. L'interruzione della gravidanza sicura nelle strutture con un'acquiglienza corretta è un diritto delle donne. È un diritto che però va continuamente riaffermato nei confronti delle strutture, nei confronti delle volte anche dell'opinione pubblica, perché le donne invece hanno un diritto di scelta e in questo hanno bisogno delle strutture pubbliche. Il sindacato, la CGL oggi si ricorda di questa cosa e si pone a fianco delle donne per garantire il rispetto dei loro diritti. Sulla 194 e sull'obiezione i consultori hanno un tasso di obiettori abbastanza basso, gli ospedali hanno un problema più grosso. Si dovrebbero applicare le norme che ci sono e si dovrebbe soprattutto da parte della Regione, delle Asle, dei direttori generali delle Asle, cercare di organizzare le cose in modo che gli obiettori che sono legittimati dalla legge nazionale a fare obiezione di coscienza, non è che un decreto regionale può superare la legge nazionale, però la Regione e i direttori generali delle Asle hanno sicuramente degli strumenti per incentivare il passaggio ad ambulatori, e altri servizi rispetto ai consultori, per fare sì che gli obiettori negli ospedali, per esempio, se fanno obiezione, non possano avere ruoli apicali e fare il primario. Io credo che creare una rete dando ad ogni organismo sanitario il suo ruolo, quello della prevenzione e promozione della salute ai consultori, quello della patologia con l'ambulatore negli ospedali, l'interruzione di gravidanza in ospedale, facendo un collegamento, una rete virtuosa fra questi servizi, potremmo avere sicuramente un servizio migliore alle donne. E un'ultima cosa, la consulta ha lanciato una petizione per la contraccezione gratuita alla consulta, perché la 194 non parla solo di aborto, ma parla di maternità responsabile e cosciente. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!